Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a provare il videogioco delle Olimpiadi di Tokyo perdonatemi se c'è questa musica di sottofondo ma non ho trovato l'impostazione per lo meno per abbassarla o levarla quindi spero che mi sentite abbastanza bene quindi andiamo a provarlo direi subito con le bici, rimanendo a tema con la BMX non so sinceramente come si gioca quindi dovrò vedere un attimo i comandi quali sono quindi vediamo subito appena carica, perfetto caricato adesso allora, premix non appena vedi via per cominciare, ok premix rapidamente per effettuare uno scatto tieni in mente che in questo modo sarà più difficile virare raggiungerai la velocità massima quando il indicatore blu arriverà alla linea gialla indicatore blu, ok sì, quello centrale, ok andiamo avanti, premi quadrato per saltare salta in corrispondenza del fc rosso sul percorso per eseguire un trick quindi quadrato per saltare, ok vediamo se mi ricordo tutto vediamo subito allora, fatemi dare un'occhiata anche allora a comandi cosa ti dice appunto, salta, quadrato, cerchio x ok per partire più veloce muoviti con l, va bene avanzate super mega partenza l2, ok impennata spingi, discesa scattante sorpasso sinistro, sorpasso destro beh, è da ricordarselo quindi dai, proviamo eccoci qua nella linea di partenza con le bmx noi dovremmo essere numero uno sa di sì va bene, andiamo avanti sì, eccoci qua allora, quindi non mi ricordo già più com'era per scappare sì, semplicemente premendo ecco, effettivamente e non so come si fa non so come si fa attenzione abbiamo colpito il vizio però, per ora siamo in testa mi sa che non mi è convenuto prendere questa quella linea di camo andiamo a sorpassarla ancora ok, salto perfetto teniamo premuto l'ins premiamolo in continuazione com'era? ah, così per la difesa ok ok, intanto ci portiamo a casa ai quarti di finale con il nuovo record ovviamente perché è la prima volta che lo faccio quindi andiamo alla semifinale a notare che c'è anche la modalità replay avanza alle semifinali vai ah, da notare la minimappa con il punto dove ci troviamo bello vedere anche queste piccolette però dai belle allora non ho capito bene come prendere diciamo le barre di ferro chiamiamole così ora vediamo fatemi ripassare un attimo i comandi avanzati ok spingi l impennata ma l'impennata può essere utile da qualche parte questo che devo capire difesa scattante ok dai dai andiamo semifinale semifinale e ampiezzarci tra i primi quattro per andare in finale quindi concentrati in partenza non siamo partiti proprio al massimo però va bene ok buono ok per ora non stiamo andando male siamo in quarta posizione quindi siamo siamo virtualmente classificati ora ci portiamo davanti a tutti ancora perfetto non ho capito non ho capito penso che dovevo prendere tipo dove c'erano le freccioline penso intanto comunque le curve le facciamo un botto meglio sembra di stare ancora su tour de france ma non ho capito perché qua non mi salta no ma c'è siamo piantati in quella curva non ho capito perché ora andiamo a dare inizio al massimo perfetto così ok perché ho fatto il salto finale non lo so però ci qualificiamo terzi quindi andiamo in finale ovviamente nuovo record andiamo in finale ecco le quali finali quindi tentiamo di prendere una medaglia anche se non ho capito bene come funzionano le parti le barre di ferro di ferro chiamiamole così le sbarre ora proviamoci siamo concentrati qua in partenza battiamo molto bene ha fatto male qua tentiamo di prendere la curva meglio attenzione eh non riusciamo a prendere lì la sbarra ok sentiamo all'esterno qua di passarli nelle curve che siamo più rapidi non un gran salto qua no ma qua non ci conviene andare da quella parte no non ho ben capito non ho da fare mi sa che arriviamo ultimi in questa finale magari direi che andiamo a giocare ancora un'altra un'altra partita giusto per capirlo meglio quindi dai andiamo a farci un altro round di BMX facciamo quest'altra prova quindi con di nuove qualificazioni ovviamente vediamo un attimo se riusciamo a fare un po' meglio abbiamo preso un attimo la mano col gioco o perlomeno con i comandi in questa specialità e proviamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa meglio concentriamoci per la partenza eh è un partito in anticipo addirittura allora bisogna premere non bisogna premere la X insieme agli altri che ho capito adesso come fare perfetto qua non riesco a prendere l'altra barra di metallo bellissima questa curva come andiamo ad affrontare eh qua sbagliato eh nulla qua tutti tutti i salti sbagliati ho ancora prendere bene la mano e arriviamo comunque primi in queste semifinali scusate se ogni tanto non parlo ma perché mi chiede tanta concentrazione a questo giocchino eccoci nelle semifinali vediamo di fare meglio di prima perché prima abbiamo sbagliato la partenza abbiamo sbagliato qualche salto quindi vediamo di non sbagliare stavolta facciamo leggero ritardo scusate se ogni tanto non parlo ma ripeto ci vuole tantissima concentrazione in questo gioco non sembra però scusatevi che per premere ecco avete visto qua le adore non ho ben capito qua come fare ad andare sull'altra parte in ferro però vabbè tanto siamo ancora in prima posizione qua non prendiamo stavolta il salto ok mamma mia quanta concentrazione perfetto mamma mia siamo fatti tutti perfetti quelle quelle waves finali dobbiamo provare a rifarle nella finale quindi andiamo alla finale ed eccoci qua le finali le finali dai voglio la medaglia d'oro dai 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 neanche quella di bronzo e argento subito voglio iniziare con quella ora subito proprio dai 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 teniamoci pronti portiamo abbastanza bene buono qua ecco ho sbagliato il salto ok buono stiamo recuperando tentiamo qua in curva di andare a passare infatti li passiamo eh qua nulla non riesco a prenderla peccato comunque qua teniamoci davanti buonissima la curva ah qua non riusciamo a prenderlo scatto vabbè ok qua contro il francese mi sembra dalla divisa mamma mia mamma mia l'oro l'oro andiamo a vincerla si prendiamo l'oro prima medaglia subito prima medaglia d'oro nuovo record 40 345 e andiamo con la medaglia d'oro vediamo se c'è una premiazione tanto replay come beh si ci fa vedere la tipo una modalità spettatore non male bellina dai andiamo avanti fatemi vedere eccola la premiazione medaglia d'oro medaglia d'oro l'italia davanti a tutti davanti ai francesi e alla russia campione olympico medaglia d'oro medaglia d'oro alla prima bellina sta BMX ti spacca la mano a premere furiosamente quella X però bella quindi con questa magnifica medaglia d'oro vi do l'appuntamento alla prossima che sicuramente comunque andremo a fare qualche altro sport perché ce ne sono tanti intanto ci siamo portati a casa la prima medaglia ed è pure d'oro quindi ciao ciao a tutti e alla prossima ciao